Ehi ragazzo, riesci a sentirmi? Cerca di aprire gli occhi, lentamente. Qual è l'ultima cosa che ricordi? Mia sorella. Ricordi gli uomini che hanno ucciso tua sorella? Erano in quattro. Ricordi che aspetto avevano? Non potrei dimenticarlo. Noi ti stiamo dando la possibilità di vindicarti. E questo grazie alle tue sette vite, alle tue sette identità, puoi essere chi un pelle e nessuno. Facciamolo. Ehi dai cazzo! Tu puoi essere chiunque, aver fatto qualunque cosa. Chi ti dice che tu non fossi già stato un assassino? Con i saluti di mia sorella, stronzo. Wow. Già. Chi ti dice che tu non fossi già stato un uomini che 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 non fossi già stato un uom